Musica Ci sono voluti tre anni di riflessioni. Alla fine l'Assemblea dei Soci ha dato il via libera al progetto di fusione tra le confi industrie di Frolicesena e Romagna. Il nuovo soggetto rappresenterà mille imprese romagnole che danno lavoro a 50.000 dipendenti per un fatturato complessivo di 25 miliardi di euro. Deve aumentare il peso della Romagna sui tavoli che contano. Ha celebrato così l'evento Paolo Maggioli che rimarrà alla guida della nuova entità fino al 2021. Per il sistema Confindustria regionale è uno dei momenti attesi, voluti e devo dire anche molto ben ponderati perché è uno dei momenti in cui anche le imprese, capendo come le difficoltà del mondo, le difficoltà economiche e anche le dimensioni siano un elemento sostanziale per poter fare meglio impresa e rappresentanza di impresa, si uniscono, forza e naturalmente anche la Regione nel suo insieme ne trarrà un grande beneficio perché ci sarà una semplificazione nelle traiettorie politiche di queste associazioni. Il contesto internazionale, se lo guardiamo anche con un occhio natalizio, è un contesto che spaventa e che ci induce ovviamente a lavorare con attenzione e con prudenza. L'Emilia-Romagna è una tra le regioni più performanti d'Italia, ma questo non ci deve bastare assolutamente. Il nostro obiettivo è raggiungere le regioni più performanti d'Europa perché solamente così facendo nel tema istruzione, formazione, ricerca riusciamo ad agganciare i momenti di ripresa che saranno magari meno continuativi ma molto rapidi e molto intensi nei cambiamenti. Presidente, ci sono molti operatori economici in Romagna un po' critici a volte che vedono politiche economiche nella nostra Regione orientate più sull'Emilia, ad esempio, sulle infrastrutture. Secondo lei la Romagna che significa toana, il sistema Emilia-Romagna e si può fare qualche cosa di più? Guardi, io non amo molto le divisioni né regionali né tanto meno territoriali all'interno di una Regione come dicevo anzitempo. A mio modo di vedere questa fusione porterà a una traiettoria anche per la Romagna più semplice, più univoca e eventualmente, nel caso fosse vero quello che lei ha affermato, certamente potrà dare maggior peso alle necessità di un territorio che per noi è assolutamente indispensabile sotto tanti punti di vista. Non ultimo la diversificazione per tipologia di produzione ma anche di servizi, non ultimo il turismo. Presidente, a questa giornata che cosa significa per la Romagna? È un traguardo che raggiungiamo di riunificare le associazioni e rappresentanze degli imprenditori. È un percorso che è partito diversi anni fa ormai, al quale oggi si aggrega anche la territoriale di Forlice-Sena. Era un punto d'arrivo, un obiettivo importante che avevamo perché riteniamo che una Romagna rappresentata in maniera unica, quindi da un'unica associazione, possa dare un contributo alle nostre aziende più importanti, traguardandole per gli obiettivi di un futuro, che è un futuro certamente per le nostre aziende e di grande sfide, quindi supportarle in miglior modo possibile. Le prime sfide, tutti uniti, quali saranno? Certamente le prime sfide saranno quelle appunto di dare un supporto alle aziende in termini sia di rappresentanza sia di servizi sempre più competenti e sempre più di qualità. Non ci dobbiamo mai dimenticare che noi anche come Romagna facciamo parte della Regione Emilia-Romagna, che è la regione che in questi anni certamente ha corso più di tutte le altre regioni italiane e anche sul tema dell'internazionalizzazione, dell'export, e quindi vogliono dare un contributo anche noi importante alla Regione Emilia-Romagna in questo senso. Attraverso questa fusione può aumentare il peso della Romagna sui tavoli che contano? Deve aumentare il peso della Romagna sui tavoli che contano. Abbiamo fra l'altro davanti un appuntamento elettorale che è importante per questa Regione perché certamente è un momento di grande importanza sia per la Regione Emilia-Romagna ma vale anche a livello nazionale obiettivamente. e incontreremo i candidati prima delle elezioni con una nostra piattaforma e con dei punti che riteniamo importanti per la competitività delle nostre aziende e quindi saremo curiosi a vedere come i candidati risponderanno a queste nostre richieste e a un po' questa nostra visione degli anni che abbiamo davanti, che sono anni di sfide molto importanti. Oggi il mercato è sempre più competitivo, l'est dell'Asia ad esempio, se vogliamo guardare uno sguardo più lontano, la Romagna oggi con questo nuovo assetto quanto può fare per crescere? La Romagna intanto è un territorio importante perché raccoglie un milione di abitanti e in una zona geografica molto importante perché sull'Adriatico ha una parte turistica, una parte di industrie molto importanti, entrambe molto importanti, ha un'entroterra certamente che non ha molto da invidiare, ha altre regioni più blasonate magari tipo la Toscana e quindi è un territorio che ha una sua conformazione di livello e di rilievo. E quindi ecco questo credo sia un buon punto di partenza per poter traguardare gli anni prossimi. La Sente è una competizione tra Emilia e Romagna, tra gli imprenditori? Ma noi essere in competizione è una cosa che deve stimolare e deve aiutare tutti a crescere maggiormente. Certamente competere come Romagna e non come territori singoli, quindi Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, già quello è un momento stimolante perché non ci potrebbe essere una competizione con l'Emilia che è certamente più compatta e unita da Romagna fino ad oggi e quindi questo di presentarsi come Romagna ci dà un tema di competitività molto più importante. Direi più che competizione dare un contributo più importante alla regione Emilia-Romagna. Abbiamo una serie di temi da trattare, fra i quali per esempio le infrastrutture, che è un tema del quale si parla sempre ma non abbastanza. La Romagna in sé ha delle richieste importanti da fare, una su tutte, noi parliamo da diverso tempo di alta velocità per esempio, che non ci sia oggi un'alta velocità in Romagna, una cosa che non sta più in piedi, che è assurda assolutamente, così come richiediamo come Romagna una maggiore attenzione a quella che è l'area del porto di Ravenna perché quella è un'area strategica per la Romagna con delle potenzialità enormi che però in questi anni sta risentendo di problemi, all'ingas, il blocco delle trivelle eccetera, che sta dando certamente i problemi a tutto quel comparto. Per cui ecco i temi sono tanti, crediamo come Romagna di poterli affrontare in maniera più robusta. La Romagna è riuscita a recuperare quanto perso durante i lunghi anni di crisi? Ma direi che ormai la lunga crisi, come abbiamo detto più volte, è stato un momento di selezione importante. Ogni tanto questi momenti arrivano, chi reagisce prima, ma vale per la Romagna come per tutto il territorio nazionale e per tutta la regione Emilia-Romagna, chi reagisce prima, chi è più veloce, chi ha anticorpi più potenti e più forti viene fuori da quelle situazioni più robusto. Questa è la storia che lo dice, non siamo noi. E quindi direi, certamente è stata sorpassata quella crisi e adesso credo che lo sforzo da fare a livello nazionale, ma poi c'è anche un tema sovranazionale, è quello di dare un po' maggiori certezze delle nostre imprese, maggior tranquillità in un quadro normativo un po' più chiaro, di regole più chiare, per poter essere liberi di competere e andare a dare quel contributo che credo possiamo dare è molto importante. E sarà anche il presidente del nuovo assetto di Confindustria dopo la fusione? Io ancora sarò il presidente di questo assetto dopo la fusione perché è un altro momento di trapasso. Partiamo con questa nuova aggregazione, con la Romagna completa, ancora per un anno e mezzo in attesa poi di avere il nuovo presidente della Romagna. Presidente, quale contributo potrà dare il territorio di Forlì-Cesena a questa unione? Forlì-Cesena ha più o meno la dimensione pari a quella di Ravenna o di Rimini, quindi saremo una componente importante della nuova Confindustria Romagna. Peseremo per circa un terzo, quindi 300 aziende su un totale di 950, quindi più o meno siamo allineati alle altre strutture. E da questa fusione quale aspettative avete? Beh, innanzitutto di avere una maggiore rappresentatività sul nostro territorio, la possibilità di offrire ai nostri associati una gamma di servizi più ampio e delle competenze maggiori. Non dimentichiamo che questa fusione dovrebbe portare anche un discreto risparmio di costi e quindi un vantaggio per i nostri associati indirettamente. Il percorso è stato tortuoso, avevate bisogno di riflettere, così ha detto. Abbiamo impiegato un po' più di tempo perché in passato c'erano state delle componenti che esprimevano un pensiero diverso, a questo punto nell'ultimo anno invece ci siamo compattati e quindi abbiamo proceduto in modo abbastanza spedito verso la Romagna. Sono quindi diradati i dubbi dei più diffidenti? Direi che l'ambiente si era serenato, siamo tutti abbastanza allineati, mi sembra che il voto di oggi in assemblea sia la testimonianza che la stragrande maggioranza degli associati di Forlice Senna voleva confluire in Romagna.